Un pallonetto sul portiere davanti ad una difesa di burro e una regala all'ex di turno Frittitta. 2-0 è partita che il Siracusa ha vinto domenica con eccessiva facilità e nell'attimo che cale il sipario dopo mezz'ora c'è tutta la mezza stagione del Vittoria, la grande illusione delle prime partite, i tormenti della vecchia dirigenza che non sa come pagare il rimborso ai giocatori, le fughe e i ritorni degli stessi ad urci sin fundo la rivoluzione di dicembre con il ritorno dell'eterno Barra Vecchia e una squadra déjà vu che mostra buona volontà e poco altro ancora. È stato sufficiente agitare ed è conservito l'amaro, quinta sconfitta stagionale. Magari Campanella dirà che la squadra non meritava di perdere, così penserà di essere in grado di perdere.